Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo parlando di lavoro e dei dipendenti Amazon, perché proprio dal Consiglio regionale è arrivata una mozione approvata all'unanimità che impegna la Giunta Toscana a farsi carico davanti al Governo nazionale della richiesta di un tavolo proprio per discutere del presente e del futuro di questi lavoratori che nei giorni scorsi hanno scioperato dando il via alla prima vera protesta in Italia, carattere nazionale e anche regionale con gli stabilimenti fiorentini e pisani in prima linea. Vediamo. La Giunta Toscana dovrà attivarsi nei confronti del Governo per favorire una nuova apertura di un tavolo nazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda Amazon sui temi delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell'azienda, sia per quanto concerne il sistema della logistica che delle consegne. L'obiettivo della mozione presentata dal PD in seguito al primo sciopero italiano che ha coinvolto anche gli stabilimenti toscani di Calenzano e Pisa ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale è quello di superare le attuali difficoltà anche alla luce del significativo incremento delle attività dell'e-commerce registrate nel periodo della pandemia da Covid-19. Noi pensiamo che vada riaperto il tavolo che invece l'azienda ha interrotto di confronto e di dialogo con i lavoratori perché siano accolte le richieste che loro fanno e quindi occorre, essendo questa un'azienda che ha presenza su tutto il territorio nazionale, che il Governo si faccia carico di questo, riapra questo tavolo e siano possibilmente, questo noi auspichiamo, accolte le richieste che vengono fatte. In più ci impegniamo anche a produrre un atto legislativo che vada incontro alla tutela dei diritti del lavoro dell'economia cosiddetta digitale. Questo pensiamo sia non solo dovuto ma anche fortemente coerente in linea con la tradizione di civiltà e con l'impegno per la qualità e la sicurezza del lavoro che la Toscana ha sempre messo nei propri atti. Mi fa piacere e voglio fare veramente complimenti ai lavoratori di Amazon perché prendere un'iniziativa sindacale come quella che hanno preso contro forse il più grande colosso mondiale non credo sia facile. serviva perché bisognava portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di queste persone. Io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto, non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro, me lo auguro ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte. Però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021. La Regione deve fare il possibile con la consapevolezza che una buona parte del lavoro dovrà essere fatta per le garanzie a livello nazionale. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle, appena salito al Governo, si è subito proposto per la sicurezza dei cosiddetti riders, di coloro che appunto portano i pasti a domicilio. Dobbiamo fare lo stesso tipo di intervento, è fondamentale perché questi lavoratori sono sempre più diffusi e soprattutto questa multinazionale, ma dobbiamo fare attenzione anche alle altre, deve garantire i giusti livelli di tutela. Non c'è lavoro se non c'è lavoro sicuro e retribuito e con le giuste garanzie. Questo deve essere un imperativo per la Toscana e per il nostro governo. È un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale, indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico, per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro, a un lavoro che in questo momento sta affaticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili, grandi redditività e che sta, tra virgolette, guadagnando dalla crisi degli altri. E quindi come tale questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi mediante il proprio lavoro produce quel reddito. Torniamo ad occuparci anche della scuola di formazione politica del Consiglio regionale dall'Assemblea Toscana. Infatti è arrivata l'approvazione allo statuto, a larga maggioranza. Tutti i dettagli nel servizio. Lo statuto della Fondazione per la Formazione Politica Istituzionale Alessia Ballini è stato approvato dal Consiglio regionale a larghissima maggioranza. È stato il Presidente Antonio Mazzeo ad illustrare in aula le modifiche introdotte dall'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza che ha licenziato la proposta all'unanimità. Si tratta di una fondazione rivolta a consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci per qualificare sempre di più il loro impegno nelle istituzioni e la loro capacità di analisi e gestione dei problemi. Le attività di formazione saranno riservate ai consiglieri e amministratori degli enti locali e della regione di età compresa fra i 18 e i 40 anni e prioritariamente orientate allo studio e alla conoscenza di materie legate all'attività politico-amministrativa. All'attività di formazione della rappresentanza politica elettiva partecipano come soci fondatori l'Unione delle province e l'Associazione dei Comuni. Le attività saranno svolte sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale che dovrà essere trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centro-destra con i consiglieri del centro-destra che stanno dando un importante contributo ecco si è scritta una pagina diversa. La scuola era istituita, ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento perché quando le cose esistono di fatto occorre cercare insieme di dare un buon funzionamento. Quello che chiedono i toscani è che le cose oggettivamente funzionino. Buon senso, pragmatismo. Noi abbiamo dato veramente dei contributi importanti sotto questo punto di vista. Il direttore risulterà tra le persone che fanno già parte delle strutture dei soci fondatori di regione ANCI, UPI e quindi non ci sarà un agravio di costi ulteriori e questo è un dato importante in un periodo come il nostro. Inoltre si cercherà di fare una buona sinergia e collaborazione con la scuola di ANCI perché questa riguarda tutta la Toscana e tutti gli eletti quindi anche la collaborazione con ANCI, con la collaborazione con UPI. Inoltre posso dire che vi è proprio quella politica volta al contenimento dei costi che a noi piace. Quindi è una scuola di formazione che avrà sede in questo palazzo nel palazzo del Prezzo e nel palazzo del Pegaso e siamo soddisfatti per aver dato il nostro contributo. L'abbiamo fatto con responsabilità, con serietà, con maturità. Ecco, cerchiamo di far funzionare le cose bene in Toscana cerchiamo di pensarci bene quando si istituiscono ma una volta istituite, come è il caso della scuola di formazione facciamola funzionare almeno bene. È un'occasione per buttare via i soldi lo abbiamo detto in maniera molto chiara siamo l'unica forza politica Forza Italia è l'unica forza politica che ha votato no allo spreco di 300.000 euro in tre anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato? Perché allora dovete chiedere a chi mandate nei consigli comunali nei consigli di quartiere nei consigli regionali in Parlamento la sai fare politica? La sai riconoscere una differenza fra una mozione e un'interrogazione? Se vi risponde di sì, votatelo se vi risponde di no, non lo dovete votare perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente dalle tasche di un pensionato si vengano prelevati dei soldi e quei soldi servono per formare chi? I politici. Questo è il modo peggiore di fare politica. Forza Italia in maniera fiera è l'unica forza politica che ha votato in consiglio regionale contro questo spreco di danaro pubblico perché la formazione appartiene ai partiti e perché la formazione la si fa ascoltando i cittadini e facendo i percorsi. Io ho fatto il consigliere di quartiere il consigliere comunale e ora il consigliere regionale. Questo è quello che dovrebbe fare la politica non chiedere che i cittadini paghino le tasse per poi formare i politici. È inaccettabile. In chiusura parliamo anche di ambiente in Toscana in particolare del parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli con l'approvazione del bilancio all'interno dell'aula del Palazzo del Pegaso. Un valore della produzione di 5 milioni di euro in diminuzione rispetto allo scorso anno costituita essenzialmente dalla vendita della fauna selvatica e di allevamento del legname e di altri prodotti e quanto emerso dai dati del bilancio preventivo economico e dalla proiezione triennale 2020-2022 del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvati a maggioranza dal Consiglio regionale. Ad illustrarli, la Presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis, che ha ricordato come ancora non sia stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Ai ritardi dovuti alla pandemia si sono infatti aggiunte le lunghe verifiche fatte dalla Giunta regionale sui costi del personale che aveva portato al commissariamento degli anni precedenti. C'è stata una... nell'audizione che abbiamo avuto con il Direttore e il Presidente del Parco ci sono state illustrate tutte le iniziative voi ricorderete e comunque ricordiamolo che nel 2014 il Parco è stato commissariato da quell'anno è iniziato un lavoro importante di revisione delle spese motivo per il quale non è stato ancora approvato il bilancio 2019 nonostante l'approvazione del pluriannale 2022 perché la Regione aveva chiesto di verificare la valutazione per esempio di alcuni aspetti molto importanti quello del personale che aveva causato all'epoca il commissariamento dell'ente. Il Direttore e il Presidente ci hanno messo in evidenza un gran lavoro che è stato fatto per la ricostruzione di alcuni passaggi che mancavano la messa in sicurezza di alcuni aspetti che per noi sono quelli fondamentali cioè capire come e in quali modi con quale risorse si prova a rilanciare tutto quel complesso che per noi è un punto di riferimento importante dal punto di vista non solo della manutenzione della biodiversità di tutte le vocazioni che il parco ha ma anche dal punto di vista attrattivo turistico. Oggi è arrivato in aula il bilancio previsionale del 2020 quindi arriva con un anno di ritardo con oltre un anno di ritardo e peraltro non è stato ancora approvato il bilancio di esercizio del 2019. Questo significa che quel parco non ha capacità di organizzare il proprio lavoro non ha capacità nemmeno di poter avanzare delle proposte e portarle a termine in maniera organica e omogenea perché è vero che si può lavorare in dodicesimi capiamo che quel parco è stato commissariato proprio per problemi che ha avuto in passato con i conti ma così non riusciremo mai a ripartire realmente su un pezzo di territorio che è fondamentale e importante. Su questo atto noi abbiamo collegato poi una proposta di risoluzione che è stata approvata all'unanimità che trattava la parte del parco che riguarda il lago di Massaciuccoli. Ecco, quella parte lì è l'area umida più grande della Toscana è praticamente tema di discussione all'interno del Consiglio regionale anche della scorsa legislatura e quindi pensiamo che in questa legislatura si possa cercare di lavorare partendo proprio dalla Commissione cercando di capire cosa i due assessori hanno intenzione di fare per quel territorio. Per noi è importante ricordo che il lago ha una valenza non solo ambientale ma anche storica visto che è il lago di Giacomo Puccini e che per quel territorio potrebbe equivalere ad avere una risorsa enorme in temi di visibilità ma anche di fruibilità. Nel parco di San Rossore Migliarino e Massaciuccoli insistono moltissime attività economiche penso all'ippodromo ai centri visite ma anche i ristoranti ostelli e varie altre attività che come tutte le attività scontano la crisi dovuta alla pandemia alla riduzione del 70-80 anche 100% dei guadagni. in questo caso la Regione Toscana può intervenire direttamente senza chiedere ad altri di farlo ovvero riducendo i canoni di concessione o di affitto mi sembrerebbe un'iniziativa semplice scontata ma soprattutto giusta ovvero a fronte di un calo drammatico e importantissimo dei visitatori e quindi dei clienti di ridurre conseguentemente anche i canoni di affitto e di concessione. Per questo ho presentato un ordine del giorno in questo senso collegato al bilancio del parco di San Rossolo e Migliorino e Massaciucco un bilancio tra l'altro abbastanza strampalato che fa acqua da tante parti che arriva in grave ritardo mi dispiace molto che la maggioranza abbia votato contro perché si fa con una mano ci si straccia le veste per le attività che sono in crisi si fa appello al governo e ad altri enti che intervengono poi quando può essere la Regione a intervenire in maniera diretta diminuendo per esempio canoni di affitto e di concessione invece si fa come Ponzo Pilato si ci se ne lava le mani e non si interviene e con questo è davvero tutto la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui vi ricordo che potete sempre seguire anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it tutti gli aggiornamenti tutte le notizie relative al Consiglio regionale l'appuntamento è per la prossima settimana buon proseguimento ovviamente su RTV 38 arrivederci a presto a presto